L'errore che persiste sempre su FIFA 25 ma non solo su FIFA ma anche su moltissimi giochi e quindi qua parliamo dell'errore di DirectX sul nostro sistema se è una versione vecchia e quindi non funzionano i giochi, se invece è una versione nuova ma non funzionano lo stesso i giochi quindi va riscaricata e reinstallata da capo. In questo caso per controllare che versione hai del DirectX basta che scrivi qua sopra DXDiag, DXDiag, vai su DXDiag, vai su sistema ed eccolo qua, versione DirectX12, se vado su schermo accelerazione DirectX tutto attiva anche DirectX12 Ultimate attivata. In questo caso la DirectX12 è solo per le schede grafiche RTX dalle serie 2000 in su. Io ho una 3070 quindi questo DirectX12 si è attivato da solo. Quindi per risolvere il problema del DirectX in descrizione ti ho lasciato così, come puoi vedere, che cos'è DirectX? DirectX possono sfruttare le funzionalità di accelerazione multimediale incorporate nell'hardware, in questo caso come puoi vedere, per verificare che versione hai del DirectX, vai su DXDiag. Per installare così una versione nuova sulla tua schede grafiche Nvidia e soprattutto anche il DirectX Web Installer ed eccolo qua, DirectX9, 10, 11 anche per risolvere i problemi dell'audio. Selezioni così la lingua, scarica e installa. Accettiamo il contratto, facciamo avanti, non installiamo questo e facciamo avanti. Una volta installato, facciamo fine. Poi, per scaricare gli ultimi driver lasciati da Nvidia sul tuo sistema, scegli così la tua scheda grafica. Vai e trova. Questo qua è per chi usa il computer per lavorare e questo qua invece è per noi, per chi è un giocatore. Facciamo vedi. Ed eccolo qua. Vai su download, scarichi e installi l'ultimo driver grafico rilasciato da Nvidia. Se non dovesse funzionare possiamo andare direttamente su grafica, scrivi qua sopra grafica, impostazioni grafica. Facciamo sfoglia. Vai nella cartella di FIFA e aggiungi il programma FIFA, quindi FC25.exe. Eccolo qua. Prestazioni elevate, opzione e scegli così la scheda grafica, la tua, prestazioni elevate e fai salvo. E chiudi qua. Se non funziona, tasto destro su Start, gestione dispositivi. Vai su schede video, la tua scheda grafica, c'è una driver, cerchi il driver nel computer, scegli da un link di driver disponibile. Metti un ultimo driver rilasciato, fai avanti e installi così il driver per la tua scheda. E non dovresti più avere problemi con questo DirectX. Se no, in questo caso possiamo direttamente andare su installazione, applicazioni, scrivi qua sopra Nvidia. e un video driver grafico, possiamo direttamente disinstallare l'intero driver grafico per la nostra scheda grafica, la nostra scheda video e reinstallare tutto da capo i driver e riprovare ad avviare i giochi. Quindi come ho detto, questo qua, driver GeForce Game Ready. Disinstalli il tuo driver grafico e lo reinstalli, ultimo driver, sul tuo computer. E non dovreste più riscontrare questo problema. Per altri problemi ancora, vuoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.